Si lavora anche sotto la pioggia per l'allestimento del Natale pesarese. Il sindaco Matteo Ricci aveva preannunciato un paio di settimane fa il ritorno all'arredo di una città che tornerà a respirare l'atmosfera natalizia dopo le restrizioni del 2020. Sarà però un Natale diverso, un Natale diffuso fra vari luoghi della città. Uno di questi è Piazzale Matteotti dove dal weekend si è cominciato ad allestire un nuovo spazio di fronte a Rocca Constanza con tanto di transennamento dell'intera area e con una parziale limitazione al transito delle auto. Qui sorgerà il villaggio di Babbo Natale, una delle nuove attrazioni che dovrebbe essere terminata già alle porte di dicembre. Uno spazio dedicato alle famiglie e ai più piccoli dove si respirerà l'atmosfera del Natale alla presenza di Santa Claus e di diverse attrazioni ad esso correlato. Intanto in Piazza del Popolo prosegue anche l'assemblaggio dell'albero di Natale per il quale è stata fissata a sabato 27 novembre la cerimonia di accensione delle luminarie. Un'atmosfera natalizia che quest'anno si allargerà anche in via Curiel dove sarà installato un grande scivolo di ghiaccio. Dalle opere natalizie alle opere incompiute questa settimana è pronto a ripartire anche il cantiere del vecchio Palace fermo da 20 giorni. Sono infatti state approntate tutte le modifiche in termini di sicurezza sul lavoro che avevano intimato lo stop.